Il giornato attende il Vicenza a Torino, Bianco Rossi in giornata no, protagonisti di una delle più scialbe prestazioni dell'intero campionato. La punizione arriva da uno dei pochi tiri dei Granata, la conclusione di Ristitelli subisce una doppia deviazione di Mendes e Lopez. Per Mondini non c'è nulla da fare, allo scadere della partita Gasparini fallisce l'occasione per ristabilire le distanze. Non è un momento favorevole per il gruppo di Guidolin, la conferma arriva dal confronto.